Per il calo delle temperature che ha dato un piccolo sollievo dopo l'AFA delle scorse settimane bisogna ringraziare il break temporalesco che c'è stato tra mercoledì e giovedì scorsi, un evento che infatti ha avuto una sua importante influenza sul caldo anche se le precipitazioni sono state tutto sommato modeste. La punta massima rilevata dall'ARPAL si è registrata a Panesi in provincia di Genova dove sono caduti 28,4 mm di pioggia. Tornando alle temperature, nei giorni scorsi i picchi più alti si sono registrati nello spezzino con 36 gradi a Castelnuovo Magra, 35,5 a Riccò del Golfo e 34,8 a Sarzana. La successiva instabilità ha abbassato le temperature tanto che le ultime cinque notti sono state nei quattro capoluoghi di provincia sempre caratterizzati da valori minimi inferiori ai 20 gradi. Addirittura nelle zone interne si sono registrati valori di tutto riguardo per il periodo, ad esempio Poggio Fearza in provincia d'Imperia ha registrato una minima di 3,5 gradi giovedì 14 luglio e di 4,8 il venerdì. Un'ultima curiosità riguarda l'attività elettrica durante il passaggio del fronte temporalesco a cavallo tra giovedì e venerdì scorsi. Sono stati infatti 2.293 i fulmini che hanno interessato il territorio ligure.